A Parigi, poco dopo l'imbrunire di una sera nera e tempestosa dell'autunno 1811, mi concedevo la duplice volutà della meditazione e di una pipa di schiuma, in compagnia del mio amico Charles Augusto Pen, nella sua piccola biblioteca o studiolo, alla Troisenne numero 33 rue du no, fu Bull Saint Germain. Per oltre un'ora eravamo rimasti in silenzio. Ad un osservatore esterno, ognuno di noi due poteva sembrare, profondamente ed esclusivamente preso dalle lente spirali di fumo che appesantivano l'atmosfera della stanza. Io, per conto mio, discutevo tra me e me alcuni degli argomenti che erano stati al centro della nostra conversazione della prima serata. Intendo i fatti della Louis Mogue e il mistero dell'assassino di Marie Roget. Perciò mi sembrò una sorta di coincidenza quando la porta del nostro appartamento si aprì per far entrare una nostra vecchia conoscenza, Monsieur G, il prefetto di polizia di Parigi. Fu accolto con cordialità, perché l'uomo era insieme tanto amabile quanto spregevole e noi non lo vedevamo da alcuni anni. Visto che eravamo rimasti seduti al buio, Dupin si alzò per accendere una lampada, ma si rimise a sedere senza farlo, sentendo G dire che era venuto per consultarci, o meglio per chiedere il parere del mio amico su una questione di lavoro che gli stava creando una quantità di guai. Se è un fatto che chiede riflessione, osservò Dupin, trattenendoci dall'accendere la pipa, l'esamineremo meglio stando al buio. Ancora un'altra delle sue bizzarrie, disse il prefetto per il quale era bizzarro tutto ciò che superava la sua capacità di comprensione e che perciò viveva in mezzo a un mondo di bizzarrie. Verissimo, disse Dupin, offrendo una pipa all'ospite e spingendo verso di lui una comoda poltrone. E qual è ora la difficoltà? Intervenne io. Non un altro assassino, spero. Oh no, niente di simile. Il fatto, il lavoro è in verità semplicissimo e non ho dubbi che potremmo gestirlo abbastanza bene da soli. Ma ho pensato che a Dupin non sarebbe dispiaciuto conoscerne i particolari, visto che si tratta di una cosa straordinariamente bizzarra. Semplice e bizzarra, disse Dupin. Proprio, sì? Ecco, non esattamente. Il fatto è che siamo in grave imbarazzo, in quanto è veramente semplice, eppure non ne veniamo a capo. Forse è la sua stessa semplicità che vi induce in errore, disse il mio amico. Che sciocchezze dice, replicò il prefetto ridendo di cuore. Forse il mistero è un po' troppo semplice, disse Dupin. Per amor del cielo, chi ha mai sentito un'idea simile? Un po' troppo evidente. Tonò il nostro ospite che sembrava divertirsi molto. Oh, Dupin, lei mi farà morire malgrado tutto. Allora, domandai, di che si tratta? Vi dirò, replicò il prefetto aspirando una lunga, intensa e migitabonda boccata e accomodandosi nella poltrona. Vi dirò in poche parole, ma prima di cominciare, devo avvertire tutti e due che si tratta di una faccenda molto riservata e che io perderei la posizione che occupo se si sapesse che ne ho parlato con qualcuno. Vada avanti, disse io. Oppure non comincia affatto, disse Dupin. Insomma, via. Sono stato informato personalmente da qualcuno molto in alto che un certo documento della massima importanza è stato trafugato dagli appartamenti reali. Si sa chi è stato, senza alcun dubbio. È stato visto mentre lo prendeva. Si sa anche che il documento è ancora nelle sue mani. E come si sa, chiese Dupin. Lo si deduce chiaramente, replicò il prefetto, dalla natura del documento e dalla mancata comparsa di alcuni risultati che ci sarebbero immediatamente se sortisse dalle mani del ladro. In altre parole, se fosse impiegato per lo scopo per cui costui deve proporsi alla fine di farne uso. Cerchi di essere più chiaro, intervenne io. Arriverò fino a dire che questo documento dà al suo detentore un certo potere, in un certo ambiente in cui questo potere ha un valore immenso. Il prefetto aveva il debole per il linguaggio diplomatico. Continua a non capire niente, disse Dupin. Niente. Dunque, questo documento, mostrato a una terza persona di cui non faccio il nome, metterebbe in questione l'onore di una personalità del più alto rango. Questo fatto dà al possessore del documento un potere sull'illustre personaggio di cui sono messi a repentaglio l'onore e la pace. Questo presunto ascendente, mi intromisi io, dipende dal fatto che il ladro sa che il derubato conosce chi è il ladro. Chi oserebbe? Il ladro, disse G, è il ministro D, che è capace di osare tutto, conveniente o sconveniente che sia per un uomo. La meccanica del furto è stata ingegnosa, non meno chiardita. Il documento in oggetto, una lettera per essere franco, è stata ricevuta dalla persona derubata, mentre si trovava da solo nel boudoir reale. Stava leggendo quando improvvisamente fu interrotta dall'ingresso dell'altro illustre personaggio, proprio colui a cui voleva particolarmente nasconderla. Dopo essersi affrettata in vano a tentare di gettarla in un cassetto, dovette lasciarla aperta come era su un tavolo. L'indirizzo era visibile, il contenuto era perciò nascosto, e quindi la lettera non attrasse l'attenzione. È in quel momento che arriva il ministro D. In suo occhio di lince coglie immediatamente il valore del documento, riconosce la calligrafia dell'indirizzo, nota l'imbarazzo della persona a cui era indirizzata, e ne capisce il suo segreto. Dopo aver trattato alcuni dei suoi affari, sbrigativamente come suo costume, estrae dalla tasca una lettera quasi uguale a quella incriminata. La apre e finge di leggerla, mettendola proprio accanto all'altra. Si rimette a discutere per circa un quarto d'ora di affari pubblici. Tirata alla lunga la cosa, mentre si congeda, prende dal tavolo la lettera che non gli appartiene. Il legittimo proprietario vede, ma naturalmente non può rischiare di attrarre l'attenzione sul fatto in presenza del terzo personaggio che gli è accanto. Il ministro se ne va lasciando sul tavolo la sua lettera senza importanza. Ecco qui, disse Dupin rivolgendosi a me, questo è esattamente quel che lei cercava per ottenere un potere perfetto. Il ladro sa che il derubato sa chi è il ladro. Sì, replicò il prefetto, e da qualche mese a questa parte, ha usato ampiamente a fini politici il potere che ha così conquistato e finua un limite molto pericoloso. La persona derubata è di giorno in giorno sempre più convinta che è necessario recuperare la lettera, ma chiaramente questo non si può fare alla luce del sole. In breve, spinta dalla disperazione, mi ha affidato questo incarico. Non si poteva, suppongo, disse Dupin, immerso in una nuvola di fumo, desiderare o immaginare una gente più sagace. Lei mi adula, replicò il prefetto, ma è possibile che questa fosse proprio la sua opinione. È evidente, come ha detto lei, intervenne io, che la lettera è ancora nelle mani del ministro. È il fatto di possederla e non l'uso che ne può fare, ad oggi potere. Usandola il potere verrebbe meno. È vero, disse G, e mi sono mosso con questa convinzione. La mia prima cura è stata quella di procedere a una minuziosa perquisizione nella dimora del ministro. Il mio principale ostacolo è dover cercare la sua insaputa. Soprattutto sono stato avvertito del pericolo che deriverebbe dal fatto che sospettasse del nostro piano. Mi pare, dissi, che lei si trovi offè in un'indagine del genere. La polizia parigina ha fatto più di una volta ricorso a questa pratica. Certo, per queste ragioni non dispero. Le abitudini del ministro, poi, mi danno un grande vantaggio. È spesso assente da casa per tutta la notte. I domestici non sono tanti. Dormono a una certa distanza dall'appartamento del loro padrone e, poiché sono in gran parte napoletani, si lasciano facilmente ubriacare. Come sapete, dispongo di chiavi capaci di aprire tutte le camere e gli uffici di Parigi. Per tre mesi non è passata notte in cui, per gran parte, io non abbia a lungo frugato personalmente il palazzo di... Ne va del mio onore e, in confidenza, la mia ricompensa è enorme. Così non ho abbandonato le ricerche finché non mi sono convinto che il ladro è più astuto di me. Ritengo di aver esaminato ogni angolo, ogni più piccolo ripostiglio in cui fosse possibile nascondere una lettera. Ma non si può pensare, insinuai, visto come è sicuro che il ministro ha la lettera, che egli l'abbia nascosta fuori di casa sua. No, è impossibile, disse Dupin. Lo stato attuale particolare degli affari di corte e la natura degli intrighi in cui Di, come si sa, è coinvolto, fanno dell'immediata possibilità di uso del documento, della possibilità di produrlo istantaneamente, un punto importante quanto il possederlo. La possibilità di produrlo, disse io, vale a dire di distruggerlo, disse Dupin. È vero, sottolineai, la lettera perciò è evidentemente nella sua abitazione. Quanto all'eventualità che si trovi addosso al ministro, possiamo considerarla fuori causa. Proprio così, disse il prefetto, per due volte è stato aggredito da falsi rapinatori che l'hanno scrupolosamente perquisito sotto i miei occhi. Si sarebbe potuto risparmiare la fatica, disse Dupin. Di, non è del tutto uno sciocco, presumo, e se non lo è, deve aver previsto questi agguati, come cosa normale. Non è del tutto sciocco, disse G, ma è un poeta, e questo, a mia parere, lo porta a un passo dall'esserlo. È vero, disse Dupin dopo una lunga tirata meditabonda della sua pipa di schiuma. Anche se io stesso mi sono reso colpevole di qualche verso, e se cominciasse col raccontarci i particolari della sua perquisizione, dissi. In concreto abbiamo proceduto con grande calma, e abbiamo cercato dappertutto. Ho una lunga esperienza in queste faccende. Abbiamo perquisito l'intero palazzo, camera per camera, dedicando a ognuna le notti di un'intera settimana. Abbiamo poi esaminato i mobili di ogni sala, aperto tutti i cassetti immaginabili. E penso che voi sappiate che per un agente ben addestrato non esistono cassetti segreti. Chi si lasciasse scappare un cassetto segreto in una perquisizione del genere sarebbe un incapace. Il compito è talmente semplice. Ogni pezzo di una stanza ha un volume e una superficie di cui bisogna render conto. A questo fine osserviamo regole esatte. Non può sfuggirci neanche la venticinquesima parte di un millimetro. Dopo le camere abbiamo preso in esame le seggiole. I cusini sono stati sondati con quei lunghi aghi che mi avete visto adoperare. Abbiamo sollevato tutti i ripiani dei tavoli. E perché? Talvolta capita che i piani, sia dei tavoli che di ogni altro mobile simile, siano rimovibili proprio per essere nascondigli. Le scavano perfino le gambe dei tavoli per nascondere qualcosa nelle cavità e poi richiuderle. Lo stesso vale per i montanti dei baldacchini dei letti. Non si potrebbe scoprire le cavità col suono? Domandai. Niente affatto. Basta avvolgere l'oggetto dentro una coltre di ovatta. Noi eravamo obbligati ad agire nel massimo silenzio. Mi sembra impossibile che abbiate potuto smontare, che abbiate potuto fare a pezzi tutti i mobili che potessero diventare un deposito di quel tipo. Una lettera può essere arrotolata in un cilindro non dissimile per forma e volume da un grosso ferro da calza e in questa forma essere inserito in una gamba di seggiola, per esempio. Ha smontato tutte le seggiole? Certamente no. Abbiamo fatto di meglio. Abbiamo esaminato le gambe di tutte le seggiole del palazzo e le giunture di tutti i pezzi del mobilio con un potente microscopio. Se ci fosse stata la benché minima traccia di una recente manomissione, non ci sarebbe sfuggita. Un solo granello di polvere prodotto dal trapano, per esempio, sarebbe stato visibile come una mela. Ogni alterazione nella colla, ogni fessura nelle giunture sarebbe bastata a rivelare il nascondiglio. Presumo che lei abbia controllato gli specchi, telai e lastre, e che abbia frugato letti e coperte, tende e tappeti. Naturalmente. E quando fu così conclusa l'ispezione di ogni singolo mobile, abbiamo esaminato la casa. Abbiamo suddiviso la totalità della superficie in scomparti numerati, per non ometterne nessuno. Ogni metro quadrato è stato oggetto di esame microscopico, come prima, comprese le due case adiacenti. Le due case adiacenti? Esclamai. Deve essere stata una sfacchinata. È vero, ma la ricompensa offerta è enorme. Nelle case avete incluso anche il suolo circostante. Il suolo è interamente pavimentato a mattoni. È stata una fatica relativamente piccola. Abbiamo esaminato il muschio tra i mattoni. Era intatto. Avrà certamente controllato le carte, DD e i libri della biblioteca. Sicuro, abbiamo aperto ogni pacco e involucro. Non abbiamo soltanto aperto i libri e abbiamo sfogliati pagina per pagina, senza contentarci di scrollarli, come fa qualcuno dei nostri funzionari. Abbiamo persino misurato lo spessore di ogni rilegatura con grande minuzia, attraverso l'indiscreto esame del microscopio. Se qualcosa fosse stata inserita di recente nelle rilegature non avrebbe potuto sfuggire all'osservazione. Cinque o sei volumi appena usciti dalle mani del rilegatore sono stati accuratamente sondati con aghi per tutta la lunghezza. Avete esplorato i pavimenti sotto i tappeti? Naturalmente, abbiamo sollevato ogni tappeto e esaminato le assi del pavimento al microscopio. E le tapezzerie delle pareti? anche. Avete cercato nelle cantine? Anche nelle cantine. Così, dissi, avete sbagliato strada e la lettera non si trova nel palazzo, come lei pensava. Temo che lei abbia ragione, disse il prefetto. Ora, Dupin, cosa mi consiglia di fare? Una nuova perquisizione completa? È inutile, replicò G. Sicuro come il fatto che sono vivo, la lettera non è nel palazzo. Non ho niente di meglio da consigliare, disse Dupin. Immagino che lei possa descrivere dettagliatamente la lettera. Oh sì! A questo punto il prefetto, estratta un'agenda, prese a leggere a voce alta una minuziosa descrizione del documento perduto, del suo interno e soprattutto del suo aspetto esterno. Poco dopo, conclusa la lettera, il bravo uomo si congedò da noi, più abbattuto e scoraggiato di quanto l'avessi mai visto prima di allora. Un mese dopo circa ci fece una seconda visita e ci trovò pressapoco occupati come la volta precedente. Prese una pipa e una seggiola e incominciò a parlare di questo e di quello finché non intervenne dicendo. Allora G, che ne è della lettera trafugata? Immagino che ora si sia convinto che mettere nel sacco il ministro non è poi tanto semplice. Che vada al diavolo! Sì, ho fatto una perquisizione come mi aveva consigliato Dupin e come immaginavo è stata una fatica sprecata. Quale ha detto che è la cifra della ricompensa? Domandò Dupin. Beh, è veramente notevole, una ricompensa proprio grandiosa, ma non mi va di dire proprio la cifra. Dirò che non esiterei a pagare di tasca mia 50.000 franchi a chi riuscisse a portarmi questa lettera. In effetti diventa ogni giorno più urgente e recentemente la ricompensa è stata raddoppiata, ma se anche la triplicassero io non riuscirei a compiere il mio dovere meglio di così. Ma certo, disse Dupin tirando fuori le parole lentamente dalla bocca insieme a larghe boccate di fumo. Io credo essere sincero, caro Messie G, che voi non abbiate fatto tutto il vostro dovere. È impossibile non riconoscere che voi non siete arrivato fino in fondo alla questione, ma potreste fare un po' di più. Questa è almeno la mia franca opinione. Che ne dite? Come? In che senso? Ma, è una fumata, voi potreste, e due fumate una sull'altra, voi potreste mettere un po' più di impegno nell'affare. E tre fumate. Vi rammentate la famosa storia della Bernetti. Al diavolo il vostro Bernetti. E sia pure al diavolo, se ciò vi diverte. Ordunque, una volta, un certo signore, avaro quanto ricco, concepì il disegno di sproccare ad Bernetti un consulto medico, e a questo scopo intavolò secolui durante un ricevimento una conversazione ordinaria attraverso la quale sottopose al medico il suo proprio caso, come se si trattasse di quello di un personaggio immaginario. Supponiamo, disse la varo, che i sintomi siano questi e questi. Ed ora, caro dottore, cosa consigliereste al poverino? Cosa consiglierei? rispose Bernetti. Vi consiglierei di andare a consigliarsi con un medico. È l'unica cosa da fare. Ma io, disse a questo punto il prefetto, un po' sconcertato, a dire il vero, non solo sono dispostissimo a prendere consiglio, ma anche a pagarlo. Io darei sul serio i cinquantamila franchi a chiunque mi togliesse di impiccio. In questo caso, disse Dupin, aprendo un cassetto della sua scrivania e traendone fuori un libretto di assegni, voi potete fare una firma per la somma suddetta. Quando l'avrete ben bene vergata, vi rimetterò la vostra lettera. Io ero al colmo della meraviglia. Quanto al prefetto sembrava addirittura fulminato. Rimase alcuni istanti immobile e muto, guardando il mio amico, con la bocca spalancata e con un residuo di incredulità negli occhi, che sembravano sul punto di schizzargli fuori dal capo. Parve infine rientrare man mano in sé. Prese e intinse una penna, e non senza qualche esitazione, con lo sguardo vuoto, proteso a scrutare misteriose distanze, riempì e firmò un assegno da cinquantamila franchi e lo porse a Dupin, al di sopra del tavolo. Questi lo esaminò minuziosamente e lo ripose quindi nel suo portafoglio. Indi sollevò una tavoletta dello scrittoio, ne trasse una lettera e la porse al prefetto. Quel degno funzionario la guantò con una sorta di spasimo di felicità. L'aprì con le mani tremanti, buttò un'occhiata al suo contenuto e poi, precipitandosi verso la porta, scomparve, senza altra cerimonia dalla stanza, senza che avessimo potuto cogliere dal suo labbro una sola sillaba dal momento in cui Dupin l'aveva pregato di firmare l'assegno. Quando egli fu fuori, il mio amico consentì ha qualche spiegazione. La polizia parigina, gli disse, è estremamente abile e avveduta per ciò che concerne il suo mestiere. I suoi agenti sono perseveranti, ingegnosi, furbi e posseggono a fondo tutto il bagaglio di nozioni richiesto dal loro specialissimo mandato. Per modo che, quando Messia G. ci forniva il particolarizzato ragguaglio della sua perquisizione in casa del ministro D. io osservavo una stima totale per il talento di cui dava mostra ed ero perfettamente convinto che egli aveva compiuta una investigazione affatto soddisfacente nei limiti delle sue specialità. Nei limiti delle sue specialità? chiesi io. Appunto, disse Dupin, le misure adottate non furono soltanto le migliori e se furono spinte altresì da una perfezione assoluta. Se la lettera fosse stata nascosta nel raggio della loro investigazione, essi l'avrebbero certamente trovata. Su ciò io non ho il minimo dubbio. A questo punto mi contentai di sorridere, ma Dupin aveva l'aria ad aver detta la sorriferita proposizione con tutta serietà. Le misure, dunque, egli continuò, erano buone e ammirevolmente poste in funzione. Esse avevano soltanto il difetto di essere inapplicabili, non solo alla fattispecie del caso, ma soprattutto all'uomo. Va a un dispiegamento di mezzi singolarmente ingegnosi che costituiscono per il perfetto una sorta di letto di procuste e sui quali egli adatta a misura tutti i suoi piani. Ed egli non di meno, nel caso particolare del ministro D è rimasto addietro per un eccesso di perspicacia e insieme di superficialità. Più di uno scolaretto avrebbe ragionato meglio di lui. Ho conosciuto un bimbo di otto anni nel quale la infallibilità al gioco di pari e dispari era oggetto di ammirazione universale. Il gioco è estremamente semplice. Uno dei giocatori tiene in mano un certo numero di palline e domanda all'altro pari o dispari. Se l'altro indovina giusto avrà guadagnato una pallina, se gli si sarà invece ingannato ne avrà perso ugualmente una. Il bimbo di cui ho detto vinceva invariabilmente tutte le palline della scuola. Naturalmente egli possedeva una sorta di capacità divinatoria, la quale consisteva nella semplice osservazione e nell'apprezzamento della finezza di penetrazione dei suoi avversari. Supponiamo che il suo avversario sia un grullo completo e levando alta la manina chiusa dica pari o dispari. Il nostro scolaro risponde mettiamo dispari e mettiamo ancora perde. Ma alla seconda prova egli vincerà perché farà a se stesso il seguente ragionamento. Lo scioccarello aveva un numero di palline pari la prima volta. Tutta la furberia potrà spingerlo al massimo a metterne la seconda volta un numero dispari. E quindi tanto vale dire dispari ancora una volta. Egli dice dispari e vince. Ma con un avversario meno semplice egli ragiona così. Questo qui si è accorto che io la prima volta ho detto dispari e alla seconda partita diviserà in un primo momento di mutare i pari in dispari come ha fatto l'altro ma in un secondo momento penserà che un cambiamento di quel tipo pecca di eccessiva semplicità e si deciderà a mettere pari una seconda volta. Io dirò pari quindi e il bimbo dice pari e vince. Ora in modo di ragionare del nostro bimbo che i suoi compagni peraltro chiamano fortuna che cos'è in ultima analisi? Esso non è che un processo di identificazione del nostro intelletto con quello del nostro avversario risposi io. Appunto disse Dupin e come io domandai a quel bimbo con quel mezzo egli effettuasse quella perfetta identificazione che aveva tutto il suo successo nebbi la risposta seguente. Quando io voglio sapere fino a che punto uno sia accorto o sciocco fino a che punto sia buono o cattivo o quali siano in quel punto i suoi pensieri cerco di atteggiare il viso così come lo vedo atteggiarsi in lui e aspetto di sapere quali pensieri e quali sentimenti nascono in me compatibili appunto con quella fittizia fisionomia che ho assunta. Questa risposta dello scolaro confonde non poco mi sembra tutta la sofistica saggezza attribuita alla Rochefoucault e la boyeria alla brugliera Machiavelli a Campanella per modo che l'identificazione dell'intelletto del ragionatore con quello del suo avversario dipende se ben compreso dall'esattezza con cui viene valutato l'intelletto appunto di quest'ultimo. Per ciò che riguarda il valore pratico del procedimento quella valutazione ne è in effetti la condizione principale replicò Dupin e se il prefetto e tutta la sua banda si sono ripetutamente ingannati l'errore va cercato in quella identificazione che hanno omessa di tentare e secondo luogo nella valutazione inesatta o meglio nella non valutazione della intelligenza con la quale stavano misurandosi. Essi non vedono al di là dei propri ingegnosi ritrovati e ove si mettano alla ricerca di un oggetto nascosto non pensano che ai mezzi che avrebbero usato essi stessi per nasconderlo e si hanno tuttavia ragione di ritenere che la propria perspicacia è una fedele rappresentazione di quella del volgo così quando sono alle prese con un marivuolo la cui sottigliezza differisce dalla loro quel marivuolo naturalmente riesce a gabbarli. Ciò non manca mai di accadere tutte le volte che l'astuzia di costui è al di sopra della loro e ciò accade assai spesso anche quando essa è per contro al di sotto. Essi non modificano affatto i loro sistemi di investigazione tutt'al più quando sono spronati da qualche caso insolito ovvero più esattamente da un'insolita ricompensa e si esaserano e portano all'esasperazione i loro vecchi espedienti e non di meno lasciano immutati i loro principi. Nel caso ad esempio del ministro D che cosa è stato fatto per cambiare il metodo dell'investigazione? A che valgono tutte quelle perforazioni, quei frugamenti, quei sondaggi, quegli esami al microscopio, quella divisione della superficie in sezioni numerate? Che cos'è tutto questo armamentario se non l'esagerazione nell'applicarli di uno o di più principi di investigazione basati su un ordine di idee relativo all'ingegno umano e ai quali il prefetto si è abituato nell'ormai annoso esercizio delle sue funzioni? Non vi accorgete che egli considera un fatto ampiamente dimostrato che tutti gli uomini i quali vogliono nascondere una lettera si servano se non d'un buco fatto col succhiello nella gamba ad una seggiola d'un qualsivoglia altro buco o sotterfugio almeno tutt'affatto singolare e sempre nell'ordine d'invenzione però del solito buco trapanato e non vi rendete conto ancora che nascondigli di siffatta originalità non sono impiegati che in occasioni ordinarie e adottati da intelligenze ordinarie. Già che in qualsivoglia caso d'oggetto nascosto tale maniera maliziosa e involuta insieme di nasconderlo è nel suo stesso principio del tutto presumibile e di fatto presunta per modo che la sua scoperta non dipende in nulla dalla perspicacia ma soltanto dalla cura dalla pazienza dalla buona volontà insomma di coloro che sono incaricati della ricerca ma quando il caso riveste un'importanza particolare ovvero il che è la medesima cosa agli occhi della polizia quando la ricompensa è particolarmente importante si servede che tutte queste belle qualità falliscono invariabilmente il loro scopo. Spero che ora abbiate compreso ciò che io intendevo affermando che ove la lettera rubata fosse stata nascosta nel raggio in cui il signor prefetto organizzò così brillantemente la sua perquisizione in altri termini se il principio ispiratore del nascondiglio fosse stato compreso nella somma dei principi del prefetto egli l'avrebbe scoperta senza fallo. Ciò non di meno il nostro funzionario è stato completamente giocato e la casa principale di questa presa in giro risiede tutta nella supposizione del prefetto che il ministro fosse un pazzo da che sarà fatto una reputazione di poeta tutti i pazzi sono poeti secondo il punto di vista del prefetto così che egli non è responsabile che ad una non distribuzio medi deducendo da quella l'altra proposizione che tutti i poeti sono pazzi. Ma si tratta poi veramente del poeta chiesi io? So che sono due fratelli e che entrambi si sono fatti una reputazione nel mondo letterario ma il ministro a quel che mi pare di ricordare deve avere scritto un importante volume sul calcolo differenziale e integrale egli dovrebbe essere il matematico non il poeta. Siete in errore io lo conosco assai bene egli è poeta e insieme matematico e come poeta e matematico ha dovuto ragionare a dovere. Se fosse stato soltanto matematico non avrebbe fatto che una parte soltanto del ragionamento necessario e si sarebbe in tal modo esposto alla merce del nostro prefetto. Una siffatta opinione esclamai non può non meravigliarmi e si è smentita coralmente dal buon senso comune. Non avrete l'intenzione spero di sottovalutare un'idea maturata attraverso i secoli dei secoli. La ragione matematica non è soltanto da ora ritenuta come la ragione per eccellenza. Il riapparie disse Dupin citando Chamfort che tu idee pubbliche tu convenzione qui è una sottise qu'è il convenio au plus grand nombre. I matematici ve lo accordo hanno fatto del loro meglio per propagare il popolare abbaglio di cui avete detto poc'anzi il quale benché spacciato per una verità è non di meno un classico e perfezionato tipo di errore. Per esempio con carte sottigliezze degne al certo di una miglior causa ci è stato appreso ad applicare il termine analisi delle operazioni algebriche. I francesi sono i primi responsabili d'un siffatto imbroglio scientifico. Ma ove si convenga che i termini del linguaggio non hanno una loro reale significazione, se le parole insomma traggono la loro ragione e il loro valore solo del modo convenuto con cui vengono applicate, concedo che la parola analisi traduca la parola algebra. Pressapoco come in latino ambitus traduce ambizione, religio, religione e omines onesti sta per la categoria delle persone per bene. Mi accorgo, dissi io, che state impancandovi in una disputa con un buon numero di professori d'algebra di Parigi, ma non importa, continuate. Io contesto la validità e per conseguenza i risultati di un qualsiasi procedimento razionale il quale s'avvalga ad altro principio che la logica astratta. E contesto in maniera del tutto particolare i ragionamenti che tengono del procedimento proprio alle dottrine matematiche. Le matematiche sono le scienze attinenti alle forme e alle quantità. Il ragionamento matematico altro non è se non la semplice logica applicata alla forma e alla sua quantità. Il grave errore consiste nel ritenere che le verità ritenute puramente algebriche siano delle verità astratte e generali. E questo errore è talmente madornale e gravido di conseguenze che io non posso far di meno che meravigliarmi dell'universalità con la quale, nonostante tutto, esso è accolto. Gli assiomi matematici non pretendono affatto ad assiomi generali. Ciò che è vero per un rapporto di forma o di quantità è sovente un grossolano errore per ciò che riguarda, mettiamo, il mondo morale. In quest'ultima scienza è troppo comunemente falso che la somma delle frazioni sia uguale all'intero. E così anche nella scienza chimica troviamo che quella sioma ha torto. E l'apprezzamento che noi facciamo di una forza motrice, ad esempio, lo troviamo anche lì, fallace, dal momento che due motori che siano ciascuno ad una data potenza non posseggono affatto, una volta messa assieme le loro capacità di traino, una potenza uguale alla somma delle loro potenze prese separatamente. Evve ancora un'enorme quantità di verità matematiche le quali non sono delle verità che nei limiti del rapporto. E non di meno il matematico argomenta incorreggibilmente, basandosi su queste verità fisse, come se esse potessero applicarsi in generale e in assoluto, il quale potere del resto è falsamente imprestato loro anche dalla gente comune. Briand, nella sua famosa Mitologie, fa menzione di una analoga sorgente di errori, allorché egli rileva che, quantunque nessuno creda alle favole mitiche dei pagani, non di meno noi osiamo trarne spesso delle conclusioni, né più né meno che se si riguardassero fatti realmente accaduti. E hanno credito, d'altro canto, tra i nostri professori d'algebra, i quali sono ancora essi dei pagani, talune favole pagane, dalle quali sono state tratte persino lambiccate congettura, non tanto per difetto di memoria, quanto per un incomprensibile ottenebrarsi delle facoltà mentali. Io non ho mai incontrato dei matematici, per farla breve, nei quali potessi fidare, eccetto che per le loro radici quadrate e le loro equazioni. Non ne ho mai conosciuto uno solo, che non tenesse in cuor suo per articolo di fede che x al quadrato più px è assolutamente e incondizionatamente uguale a q. Provate a dire a uno di cotesti signori, tanto per fare una prova, che voi credete alla possibilità che x al quadrato più px non sia affatto uguale a q, e quando sarete riuscito a fargli capire che cosa intendete dire, procurate in mantenente di mettervi al largo della sua portata, giacché egli, senza dubbio, sarà intenzionato ad accopparvi. Voglio dire, continuò Dupin, nel mentre che io facevo credito, con una risata a queste sue ultime osservazioni. Voglio dire che se il ministro fosse stato soltanto un matematico, il prefetto non si sarebbe trovato nell'alternativa di firmarvi un assegno. Lo conosco di fatto per un matematico e per un poeta nel contempo, e io avevo preso le mie misure in ragione della sua capacità e tenendo conto delle circostanze in cui egli sarà cacciato. Sapevo così che egli era un uomo di corte e un intrigante rotto alle più spregiudicate macchinazioni. Riflettei che un uomo simile doveva essere indubbiamente al corrente di tutti i metodi, in pratica presso le stazioni di polizia. Evidentemente egli dovette aver previsto, e gli eventi l'han provato, le imboscate che gli sono state preparate. Sono sicuro inoltre che egli aveva previste anche le perquisizioni a domicilio. Le sue frequenti assenze notturne, che il nostro bravo prefetto aveva salutate con gioia quali positivi pronostici del suo successo, io le tenni come dei semplici trucchi per facilitare le libere ricerche della polizia e persuaderla in tal modo che la lettera non si trovava nell'alloggio. E sentii inoltre che l'intera serie dei ritrovati relativi alla non mai variata azione poliziesca in tema di perquisizioni, i medesimi cioè che vi ho ora sciorinati e dei quali ho cercato non senza difficoltà di mostrarvi la fallaccia, sentii dico che tutt'intera quella serie aveva dovuto necessariamente dispiegarsi dentro al cervello del ministro. Tutto ciò doveva imperativamente portarlo a sdegnare qualsiasi sorta di nascondiglio volgare. Quell'uomo, io credo, non poteva arrivare a tal punto di ingenuità da non prevedere che il più complicato, il più impensato e profondo nascondiglio della sua casa non avrebbe saputo osservare il minimo segreto per le occhiate, i sondaggi, i succhielli e i microscopi del prefetto. Da ultimo io decisi che egli si sarebbe necessariamente affidato alla semplicità seppure non vi dovette essere indotto da un gusto tutt'affatto naturale. Vi rammentate senza dubbio con quali scoppi di risa il prefetto accolse durante il nostro primo colloquio, la mia opinione secondo la quale se quel ministro lo sconcertava tanto era solamente a causa della sua assoluta semplicità. Infatti, dissi io, mi ricordo perfettamente la sua ilarità, credete sul serio che gli fosse per divenir preda ad un attacco nervoso. Il mondo materiale, disse Dupin, è affatto pieno di sorprendenti analogie con quello immateriale. A ciò proviene che i dogmi retorici hanno somiglianza con la verità così come una metafora o una similitudine possono rendere più persuasiva un'argomentazione al modo stesso che abbelliscono una descrizione. Il principio della forza d'inerzia, ad esempio, sembra aver la stessa portata nelle due nature, quella fisica e quella metafisica. Un corpo di una certa grandezza è messo in moto con maggior difficoltà che non quello di una grandezza minore. E la sua quantità di movimento è in proporzione di questa difficoltà. Ed ecco una proposizione analoga altrettanto incontrovertibile. Le intelligenze di una vasta capacità, le quali sono nel contempo più impetuose, più costanti e più occidentate nelle loro possibilità dinamiche che le altre ad un grado inferiore, sono quelle che si muovono più disagiatamente e che sono le più frastornate d'esitazioni al momento di mettersi in marcia. Altro esempio. Avete mai notato quali siano le insegne di bottega che attraggono maggiormente la vostra attenzione? Non ci ho mai pensato a essere sincero, disse io. Esiste, replicò Dupin, una sorta di indovinello che suscia a giocare su una carta geografica. Uno dei giocatori prega a qualcun altro di indovinare una data parola, il nome di una città, ad esempio, di un fiume, di uno stato, di un impero. Una parola qualunque, a farla breve, che sia compresa nella superficie variopinta e imbrogliata della carta. Una persona che sia nuova al gioco cerca in generale di imbarazzare il suo avversario, dandogli a indovinare dei nomi scritti in carattere impercettibile. Ma gli adepti del gioco scelgono dei nomi scritti a caratteri cubitali, quelli medesimi che si leggono da un capo all'altro della carta. Quei nomi, come pure quelli delle insegne e dei manifesti a lettere troppo grandi, sfuggono all'osservatore a causa della loro stessa evidenza. E a questo punto dirò che le dimenticanze materiali sono del tutto analoghe alle distrazioni d'ordine morale di uno spirito che si lascia sfuggire le considerazioni che siano troppo palpabili, fino alla noia e alla banalità. E questo è il punto, a quel che sembra, un tantino di sotto, ovvero al di sopra dell'intelligenza del prefetto. Egli non ha mai creduto probabile che il ministro avesse deposta la sua lettera proprio sotto il naso di tutti, nel solo intento di impedire ad un individuo qualunque di scorzerla. Ma più io mi perdevo a far congetture sull'audacia, la profondità e lo spirito inventivo del ministro di, e soprattutto sul fatto che gli aveva bisogno di avere il documento sempre a portata di mano perché potesse usarne tempestivamente. E ancora su quell'altra circostanza apertamente dimostrata, ma c'è l'aiuto del nostro prefetto, che cioè la lettera non era stata nascosta in quelli che sono i limiti di una ordinaria perquisizione, fosse anche compiuta regola d'arte, e più mi convincevo che il ministro, per nascondere la sua lettera, era ricorso all'espediente più ingegnoso che si possa concepire da mente umana, il quale consisteva addirittura nel non tentare affatto di nasconderla. Forte di questa persuasione mi aggiustai sul naso un paio d'occhiali verdi e mi presentai un bel mattino, con l'aria di capitarvi per puro caso, nell'abitazione del ministro. Il signor D era in casa, egli girandolava per le sue stanze, sbadigliando e gingillandosi con mille sciocchi argomenti e protestandosi oppresso da una noia mortale. Il ministro D è forse tra i nostri uomini più energici, ma soltanto quando è certo di non essere osservato da nessuno. Per non essere da meno di lui, cominciai anch'io a lamentarmi e accusai un'improvvisa debolezza alla vista che mi costringeva a portare occhiali verdi, ma dietro a quelli ispezionavo con cura e minuzia l'intero appartamento, badando tuttavia ad essere sempre presente alla conversazione del mio ospite, badando tuttavia ad essere sempre presente alla conversazione del mio ospite. Concentrai dapprima tutta la mia attenzione su una grande scrivania presso la quale gli era seduto e sulla quale giacevano, mescolate disordinatamente, alcune lettere ed altre carte, assieme a qualche volume e uno o due strumenti musicali. Dopo un esame piuttosto prolungato, fatto con tutto mio agio, non vi scorsi però nulla che potesse giustificare i miei sospetti, ma i miei sguardi a lungo andare, dopo aver fatto un completo e accurato giro della camera, caddero su un qualsiasi portacarte, adorno di lustrini e sospeso a mezzo di un nastro scolorito a un piccolo bottone di metallo dorato proprio al centro della cappa di un caminetto. Quel portacarte era diviso in tre o quattro compartimenti e lasciava vedere, oltre a cinque o sei piccoli biglietti da visita, una lettera. Questa era piuttosto sudice e spiegazzata ed era come divisa in due pezzi da uno strappo nel mezzo, il quale denotava l'intenzione in un primo momento di stracciarla, come se si trattasse di un oggetto di nessun valore. Essa recava un largo sigillo nero con la cifra D, bene evidente, ed era indirizzata allo stesso ministro. L'indirizzo era stato tracciato da mano femminile, con una calligrafia molto sottile ed elegante. Era stata gettata negligentemente, e anche a quanto sembrava, con un certo sdegno in uno degli scomparti superiori del portacarte. Quindi dal primo colpo d'occhio che io posai su quella lettera non ebbi alcun dubbio che fosse proprio quella che stavo cercando. Essa era nell'aspetto esteriore del tutto differente da quella di cui il prefetto ci aveva letta una tanto minuta descrizione. In questa del portacarte il sigillo era largo, nero, e recava la lettera D, mentre in quella descritta nel promemoria del prefetto, il sigillo era piccolo e rosso, con sopra lo stemma ducale della famiglia S. In questa l'indirizzo era di mano femminile, in quella l'indirizzo ad un personaggio regale era stato tracciato da una mano ardita e decisa. Le due lettere non si rassomigliavano, insomma, che in un sol punto, nella dimensione. Ma allo stesso carattere d'esagerazione di quelle differenze, fondamentali, insomma, la sudiceria, lo stato deplorevole della carta spiegazzata e lacerata, in perfetto contrasto con le abitudini invece del ministro, universalmente noto per il suo ordine e la sua metodicità, e quelle differenze che denunciavano chiaramente l'intenzione di sviare un'indagine indiscreta, offrendo tutta l'apparenza di un documento senza valore, tutto questo, con l'aggiunta della impudente ostentazione del documento, messo addirittura in mostra, perché lo potesse veder bene chiunque fosse passato nella stanza, la quale ostentazione si trovava ad essere pienamente d'accordo con le mie conclusioni sue esposte, tutto questo, mi dissi, è combinato in tal modo da corroborare i sospetti di qualcuno venuto appunto col partito preso d'un sospetto. Prolungai la mia visita il più possibile, e nel mentre che sostenevo una vivacissima discussione col ministro, un argomento che conoscevo per essergli sempre gradito, non distraevo la mia attenzione dalla lettera. Nel corso di quell'esame mi posi a riflettere sul suo aspetto esteriore e sul modo nel quale era stata collocata nel portacarte, intanto che non pervenne a una scoperta, la quale disperse pure l'ultimo impercettibile dubbio che poteva essermi rimasto. Osservando i bordi della carta, notai che essi erano più logorati che non comportasse un uso normale, infatti presentavano le caratteristiche di logorio ad un cartoncino che sia stato ripiegato nel senso inverso, ma lungo la medesima piegatura. Questa scoperta mi era più che sufficiente. Era chiaro che la lettera era stata rovesciata, come un guanto, ripiegata e nuovamente sigillata. Augurai il buongiorno al ministro e presi congedo da lui, non senza aver dimenticato a bella posta, una tabacchiera d'oro sul suo tavolo. Il mattino di poi tornai a cercare la tabacchiera e consi l'occasione per riprendere, vivacissimamente anche stavolta, la conversazione del giorno innanzi. Ma, nel mentre che la discussione era al massimo del suo interesse, una detonazione fortissima, come una revolverata, si fece sentire sotto alle finestre della casa, ben presto seguita dalle urla e dalle vociferazioni di una folla spaurita. Il ministro D. si precipitò a una finestra, l'aprì e si sporse a guardare al basso. Nello stesso istante io filai dritto al portacarte, presi la lettera, l'intascai e la sostituì con un'altra, una sorta di facsimile quanto all'apparenza esteriore, che avevo preparato con cura a casa, contraffacendo la lettera D del sigillo con una mollica di pane. Il tumulto nella strada era stato motivato dal capriccio in consulto ad un individuo armato di fucile. Egli aveva scaricata la sua arma davanti a una folla di donne e di bambini, ma poiché essa era caricata soltanto a salve, quell'originale fu lasciato continuare il suo cammino, una volta riconosciuto per innocuo, e il suo gesto fu attribuito ad aver egli alzato il gomito. Quando fu partito, il ministro D. si ritirò dalla finestra dove io l'avevo immediatamente seguito dopo essermi assicurata la preziosa lettera. Pochi istanti appresso, mi congedavo nuovamente. Il preteso pazzo della sparatoria era stato pagato da me per far quella parte. Ma qual è lo scopo, domandai io, che vi ha indotto a sostituire la lettera con una sua contraffazione? Non sarebbe stato più semplice, fin dalla vostra prima visita, di impadronirvi della lettera senza altre precauzioni e di filare? Il ministro di, replicò Dupin, è capace di tutto ed è un uomo dai nervi a posto. Inoltre dispone, nel suo stesso alloggio, che che ne dica il prefetto, di servi devotissimi. Se io avessi osato attuare lo stravagante tentativo cui avete accennato, non sarei uscito vivo dalla sua casa. I buoni parigini non avrebbero più sentito parlare di me. Ma, a parte queste considerazioni, avevo una mira particolare. Voi siete a parte delle mie simpatie politiche. In tale affare, io ho la parte del partigiano della dama in questione. Sono diciotto mesi che il ministro la tiene in suo pugno, ed essa è, per contro, ora a tener lui, dal momento che egli ignora che la lettera non è più a casa sua ed è sempre sulle mosse di ricattare. Egli dunque andrà incontro da se stesso alla sua rovina politica e in un colpo solo. La sua caduta non sarà meno precipitosa che ridicola. Si parla con molta sicuma era di un facilis dicensus saverni e non di meno in materia di scalate. Si può ripetere ciò che Catalani diceva a proposito del canto. È più facile salire che discendere. Nel caso presente, io non ho veruna simpatia, inclinazione o pietà per colui che sta per discendere. Il ministro D è il vero monstrum horrendum, un uomo di genio senza alcun principio. Vi confesso tuttavia che non mi dispiacerebbe affatto di conoscere l'esatta natura dei suoi pensieri, al momento in cui, sfidato da quella che il nostro prefetto chiama una certa persona, egli sarà costretto ad aprire la lettera che io ho lasciato per lui nel suo portacarte. Come? E ci avete messo forse qualcosa di particolare? Ah no, mi sarebbe apparso affatto sconveniente lasciargli l'interno in bianco. Avrebbe avuto l'idea di un insulto. Una volta a Vienna il ministro D mi ha giocato un brutto tiro e Dio gli disse in quell'occasione, e in tono tutt'altro che di scherzo che me ne sarei ricordato. Per modo che, prevedendo la sua curiosità relativa alla persona che l'ha gabbato, ho pensato che sarebbe stato un vero peccato di privarlo di qualunque indizio. Egli conosce benissimo la mia calligrafia, ed io ho copiato, proprio in mezzo alla candida pagina, questi versi. Sì, un desin si funeste, sin le digni d'Atre e digni d'Atre. Li troverete nella Tre di Crébillon. Grazie. Grazie.